Benvenuti a tutti, oggi è l'8 ottobre 2018, lunedì, iniziamo la nuova settimana su CiperTV, naturalmente sempre da CrossFit Bilizio. Il riscaldamento di oggi è composto da 400 metri di corsa, quindi usciremo fuori, dopodiché avremo 5 minuti di mobilità per i polsi, mi ricordo un po' la Coccarini, va bene, e poi 10 front stop press. Se non conoscete questo esercizio trovate, come al solito, il link qua sotto per andare a vedere su YouTube di che cosa stiamo parlando. Tutto questo, hai sentito? Tutto questo in preparazione degli hand power clean che andremo a fare subito dopo e dovremo fare un set molto pesante di 3 colpi, quindi un heavy set di 3 hand power clean. A seguire 3 round 4 time di 30 hand power clean, ancora una volta, 30 wall ball, 30 box jump, per quanto riguarda pesi e carichi come al solito, la grafica qui di fianco. A domani!